Su Soddimo, ma come su tanti giocatori, che anch'io mi diverto a leggere, fino ad adesso non mi è stato mai proposto Soddimo. Al momento in cui mi propongono o mi dicono che c'è la possibilità di prendere un giocatore come Soddimo, dirò la mia, ma non penso che arriverà un giocatore senza il mio consenso. Il discorso è che al momento in cui mi parleranno di Soddimo oppure di altri giocatori, dove sicuramente si faranno dei nomi, dirò il mio pensiero. E se un giocatore che rientra e può fare il caso nostro, ben venga. Ma in questo momento qui non mi è stato proposto nulla e finché non mi si propone il giocatore, vuol dire che Soddimo a Lanciano per adesso non arriva perché non mi è stato proposto. Allora ovviamente vi venisse proposto? Darò il mio parere, ma è giusto che lo dia prima la società e poi a voi giornalisti. Si parla di Ciano e Plasmati, tra questi due chi preferisce eventualmente? Tutti e due. In blocco? Tutti e due. Magari mi arrivassero tutti e due io sarei l'uomo più felice del mondo, però anche lì è normale che, ripeto, ci sono delle situazioni da vedere, da rispettare, da studiare. Però sono due giocatori diversi, due giocatori importanti con caratteristiche diverse. La qualità ben venga, ecco.